Sabato, sotto il mio comando, gli Stati Uniti hanno compiuto con successo un attacco aereo su Kabul in Afghanistan che ha ucciso l'emiro di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Così il presidente americano Joe Biden ha annunciato l'epilogo di una caccia all'uomo durata 21 anni, finita con droni americani che hanno sparato due missili nel cuore di Kabul, uccidendo il braccio destro di Osama Bin Laden, uno dei responsabili degli attacchi dell'11 settembre del 2001. La giustizia è stata fatta, detto Biden, secondo cui la morte di Al-Zawahiri permetterà alle famiglie delle vittime del peggior attacco sul suolo americano di voltare pagina. La CIA aveva individuato l'egiziano 71 anni mesi fa, poi le lunghe ricerche per capire in quale casa dell'affollato quartiere della capitale afghana si nascondesse. I missili lo hanno colpito mentre si trovava sul balcone. Secondo gli Stati Uniti non ci sono state vittime civili o fra la sua famiglia, a differenza del fallito attentato 20 anni fa a Torabora, quando morirono sua moglie e alcuni dei suoi figli.